Sui punti nascita al rischio chiusura a sud di Salerno si consuma l'ennesimo scontro politico tra regione e centrodestra ad infucare il dibattito, le parole usate dal senatore Antonio Iannone nei confronti del governatore Vincenzo De Luca. È il tempo di smetterla con l'essere cafone, maleducato e di fare il proprio dovere. Non sono i sindaci a dover fare i pellegrini a Roma, ma è De Luca a dover andare a casa se non è in grado di assumersi le proprie responsabilità. Altrettanto al veleno la replica del presidente regionale è arrivata venerdì durante il suo intervento su Facebook. Perché c'è stato un imbecille di parlamentare di Fratelli d'Italia che si è permesso di fare speculazioni e di diffondere notizie false. Un imbecille che in un paese civile non avrebbe potuto fare neanche il venditore di cocco e che si trova oggi nel Parlamento nazionale. Quest'ultima battuta ha dato in là al senatore Iannone per la replica. Le gentile parole rivolte dal governatore alla mia persona sono medaglie, anche perché è meglio venditore di cocco che figlio di De Luca. Poi ha aggiunto, mio nonno diceva, chi si offende è fetente, ma chi offende è ancora più fetente. Dalla Camera arriva la solidarietà dell'onorevole Imma Vietri al senatore per le offese ricevute. Chi rappresenta un'istituzione, dice, dovrebbe utilizzare un linguaggio consono al ruolo che ricopre, ma De Luca dimostra di non conoscere né l'educazione né il rispetto verso chi, come lui, rappresenta il popolo campano.